Ha vinto un gruppo musicale che si chiama ancora oggi credo, gli Avion Travlam, ve l'ho ricordata? Ah dai, la canzone qual'era la canzone? Ah dai, si chiamava Sentimento, ma se vi chiedo di cantarla? Però se io vi dico, lasciatevi cantare con la chitarra in mano Statevi cantare solo l'italiano Pensavo di ceste sono un carabinico Ma se dico che sarà, che sarà, che sarà Che sarà, che statevi cantare Mi minate questo pubblico, so far tutto Forse niente a domani di verrà Statevi cantare solo l'italiano E se vi dico invece un'altra canzone Questa è la storia di una di noi Anche lui Ma se dico Italia, Italia Vedete che, eh? Alla fine poi tutti questi ragazzi che escono dei vari talent Ma come faranno a far ricordare le loro canzoni? Come queste che adesso vi faccio ascoltare Grazie, grazie Come queste che adesso vi faccio ascoltare A questo panel Dedicato appunto al festival di Salveo Vai!